Sono felice perché da un punto di vista calcistico è chiaro che ho amato tantissimo quello che ho fatto e oggi dico basta la carriera da giocatore, però si apre una nuova avventura e era difficile andarmene dal Milan perché ci tengo a ringraziare le tante squadre che mi hanno offerto di giocare ancora. Non ultimo oggi dall'Inghilterra una squadra che mi ha offerto un biennale e mi ha fatto pensare molto però alla fine penso che il legame che c'era col Milan dovesse proseguire per tanti motivi, per tutto quello che c'è stato, per l'affetto della gente e si apre un nuovo capitolo della mia vita, ho grande passione, ho sognato in questi giorni, lo dicevo anche a Dottor Gagliani e a Filippo Galli che l'ultima Champions League nel 2007 l'ho vinta con la maglia del Milan facendo una doppietta chissà se possa avverare il sogno di rivincere ad allenatore come ha fatto Ancelotti per cui questo è il mio sogno, quando ho cominciato a giocare sognavo di vincere la Champions League dal giocatore ci sono riuscito, adesso spero di vincere ad allenatore del Milan grazie a tutti